Ibra è Ibra, è un'entità talmente alta che lasciamo la Star League, un giocatore incredibile che ho avuto la fortuna di giocarci insieme ed anche contro durante tutta la mia carriera. Sono contento di quello che sto facendo, mi sto godendo ogni momento e paradossalmente di questa vecchiaia calcistica me la sto godendo ancora di più, perché poi dai 32-33 anni in poi veramente mi sono goduto ogni istante molto di più degli anni precedenti che magari sono arrivato anche più avanti in tante competizioni. Mi diverto, vediamo dove arriverò e mi godo ogni istante con tanti ragazzi che mi danno energia.